Amici di Chef in Capicia, oggi una bella pasta con le zucchine. Tagliamo i fiori e mettiamoli da parte. Ora separiamo la parte verde esterna da quella bianca. Ci serviranno per fare una crema. Giù con un po' di olio, sale e acqua calda a coprire leggermente. La parte rimanente della zucchina a dadini. A questo punto giù la pasta. Qua abbiamo un po' di ricotta fresca, sale, pepe e scorza di limone. Quando sono ben cotte, le frulliamo. Guardate che colore brillante. Se vi piacciono mento e basilico, qui stanno benissimo. La scoliamo bella al dente. Impiattiamo fiocchetti di ricotta, i nostri fiori. Mi raccomando, provatela.